Nel giro di un minuto e mezzo hanno svuotato due vetrine contenenti smartphone di ultima generazione e sono fuggiti. È accaduto al negozio della team di piazza Santa Maria a Lucca. I ladri sono entrati in azione lunedì notte. Hanno infranto il vetro più basso della porta di ingresso, subito sostituito la mattina seguente dai titolari del negozio, e sono entrati all'interno. È entrato in azione l'allarme collegato ad un istituto di vigilanza, ma i malviventi sono stati rapidissimi. Hanno infranto due vetrine interne portando via una ventina di smartphone e sono subito scappati. All'arrivo delle guardie private e della polizia di loro non c'era più nessuna traccia. La polizia sta cercando riscontri visivi da alcune telecamere di sicurezza che si trovano in piazza Santa Maria. Intanto il negozio conta i danni. Tra vetrine infrante e telefoni rubati si aggirerebbero sui 10.000 euro. Quello alla team è solo l'ultimo di una serie di furti o tentativi di furto verificati nelle ultime ore. I ladri hanno tentato di introdursi all'interno della scuola d'inglese Wall Street alle tagliate ed hanno messo a segno un colpo da 50.000 euro rubando biciclette in carbonio alla Cicli Franceschi sulla via Pesciatina. Infine i gnoti si sono introdotti anche all'interno della canonica di San Cassiano a Vico. Poi ci sono i furti nelle abitazioni in aumento in questi giorni. I ladri hanno colpito tra l'altro nelle zone di Sant'Anna e della Santissima Annunziata dove hanno sventrato una cassaforte all'interno di un'abitazione.